Brutte notizie per i fan delle professoresse dell'eredità. La produzione del programma ha deciso di fare a meno della presenza di Ludovica Karamis, Francesca Fichera e Eleonora Cortini. Le tre vallette, presenti nel game show dal 2011, non torneranno a settembre. A farlo sapere le dirette interessate attraverso un comunicato congiunto su Instagram. Secondo quanto si legge nella nota, i produttori hanno deciso di intraprendere un nuovo percorso per il format. Arriveranno nuove showgirl o la figura della professoressa verrà cancellata del tutto? Per il momento non è ancora chiaro, ma il comunicato di Ludovica, Francesca e Eleonora è assai toccante. Cari amici, ci rattrista molto scrivere questo post perché per la prima volta dopo sei meravigliosi anni passati insieme, il nostro rientro delle vacanze non sarà insieme a voi. A prescindere dalla volontà di ognuno di noi, il programma ha scelto di intraprendere un percorso nuovo che non comprenderà la nostra presenza. Sarà sicuramente un percorso altrettanto bello ed è quello che desideriamo con il cuore, visto che continueremo a sentirlo un po' nostro anche se ne abbiamo già una grande mancanza. Non solo del programma, ma di tutti voi che ci avete seguito con affetto e che volevamo cogliere l'occasione di ricambiare con un immenso e sentito grazie. Un abbraccio a tutti voi. Per restare aggiornato sul web, iscriviti al nostro canale YouTube e seguici sulla nostra pagina Facebook. Un abbraccio a tutti voi.